5, 4, 3, 2, 1, 0 anche quest'anno la fiera è cresciuta sia come persone che come metri quadri confermando il trend più che positivo del settore e niente, giochi belli giochi italiani con un ottimo successo barrage e terra amara su tutti ma se ne contano diversi dei nostri autori sempre con un ottimo riscontro di pubblico e questo è tutto, da Essen anche questo 2019 ci siamo stati e vedremo di non mancare anche nel 2020 un saluto a tutti chiudiamo con la Schmidt ciao, al prossimo anno ciao 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 ciao